Ciao sono Marco Magro del sito giocaratennis.it e ieri un appassionato tennista mi ha chiesto come fare per giocare la seconda di servizio? Probabilmente risponderai ma è sufficiente tirarla più lenta. In realtà non è sempre la soluzione più efficace perché giocarla lenta significa rischiare di tirarla a rete oppure di tirarla comoda per la risposta dell'avversario. Molto meglio giocare un servizio con un po di rotazione in kick. La rotazione in kick è quella che diamo colpendo la palla dal basso verso l'alto in modo tale che la palla faccia una traiettoria alta, superi la rete che ricordo è il primo ostacolo e tenga l'avversario distante dalla riga di fondo. Per farlo però ricordati di lanciare la palla leggermente sopra la testa o meglio ancora indietro e di colpire la palla dal basso verso l'alto. Grazie. Grazie.